Cavagli agli ordini dello starter Partiti, quarta corsa in programma, premio ristorante Paglia e Fieno sulla distanza di metri 1800 Riservata a Gentleman Rider In vantaggio Kay of My Heart nei confronti di Giuda De Sena, Lomnago, Pacific Martina e Brigitte Levinson In quest'ordine i cavalli affrontano la prima piegata con Kay of My Heart Che conduce sull'omnago Pacific Martina Giuda De Sena e Brigitte Levinson A metà della retta opposta Conduce Kay of My Heart sull'omnago Che ha all'esterno Giuda De Sena Pacific Martina Quattro cavalli in diagonale all'inseguimento del battistrada lungo la piegata conclusiva Con Lomnago che prova ad avvicinare Kay of My Heart Che mantiene comunque il comando della corsa Kay of My Heart Lomnago Giuda De Sena e Brigitte Levinson Lomnago Cavalli in dirittura dove Pacific Martina attacca all'esterno Così come Brigitte Levinson Pacific Martina a condurre nei cento conclusivi Pacific Martina che allunga Pacific Martina in canter Su Kay of My Heart Terminano in lotta il numero quattro Brigitte Levinson Con all'interno il numero cinque Giuda De Sena E costringeranno con tutta probabilità il giudice d'arrivo alla fotografia Quindi Pacific Martina con Antonio Ferramosca Viene a siglare la quarta dalla Don Meloni di Chirivani